allora ciao e oggi ho fatto un video su un grande artista un artista famosissimo che dei primi del novecento e il suo nome è per intero diego josé francisco de paola quanna pomuseno maria de los remedios cipriano della santissima trinidad ruiz anibali picasso che poi ogni volta la gente non capisce che picasso è un genio perché c'è di quella gente che dice su picasso a me sto pittore mi fa proprio cagare c'è queste quattro linee che fa alla fine sono c'è posso fare anch'io alla fine va non è molto bello tipo è uno stronzo ha fatto soldi facendo quattro linee c'è che poi alla fine la gente la mette anche sul fatto estetico proprio lui com'era c'è che poi è brutto come la fama c'è indescrivibile c'è sto naso qui che è una patata brutto proprio brutto brutto e allora vi lascio con il video dedicato a lui a Grazie a tutti.